Il Casalbordino si sta preparando al meglio per affrontare l'atteso derby con il Vasto Marina, una squadra che rappresenta un osso duro da sempre per la formazione del Patron Santoro, anche se le premesse sono beneauguranti visto che quest'anno già avete affrontato questa squadra in Coppa e l'avete battuta in trasferta, ma ricordiamo però che l'anno scorso in casa, in campionato, avete perso nei minuti finali al termine di una gara piuttosto animata. Ma parliamo innanzitutto di quello che avete combinato domenica, non è andata benissimo sul terreno della ripescata Ortona, vero? Diciamo che è andata male male, Ortona ci ha messo sotto, noi ci abbiamo messo anche del nostro, la sconfitta lascia un pochino la mare in bocca, non perché fosse immeritata, anzi, meritatissima da parte dell'Ortona, e perché nonostante tutto, nonostante l'Ortona abbia fatto una bellissima partita, nonostante il Casalbordino abbia veramente cincischiato e abbia avuto tre o quattro palloni gol clamorosi che non siamo riusciti a finalizzare, e giustamente hanno vinto loro poi perché nel calcio chi ci mette del suo, chi dà di più e chi gioca meglio dovrebbe vincere e ha vinto l'Ortona, giustamente, merito a loro e merito anche al mister Belleri che si è dato molto da fare. Però non sono preoccupato più di tanto, perché sono convinto che soprattutto questi primi schiaffi iniziali possano servire per svegliarci dal torpore e renderci conto che il campionato è un campionato importante. Domenica è il Vasto Marina, il Vasto Marina noi l'abbiamo battuto in Coppa, ma in Coppa come ben si sa si fanno giocare le squadre B, si fanno giocare le squadre rimaneggiate, poi la Tigre Antonio è un furbacchione e qui a Casal Bordini il Vasto Marina è sempre venuto a vincere, quindi veramente dobbiamo fare una partita diversa per sfatare la storia e per sfatare questo tabù che ci vede sempre sconfitti sul nostro campo dal Vasto Marina, quindi partono molto molto favoriti loro. La società non è mai ferma neanche quando il mercato ufficiale è praticamente chiuso, si colgono occasioni davvero inaspettate. In questa settimana avete fatto arrivare qui in riva all'Adriatico un calciatore che conosce altri mari, l'oceano Atlantico, viene dal Brasile, vero? Come siete riusciti ad accaparrarvi questo giocatore? Sì, 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 sì. Stiamo sempre in movimento per cercare un attimino del valore aggiunto a questa squadra che è già molto competitiva di suo. Questo ragazzo Romulo si chiama il brasiliano e tramite dei nostri amici procuratori lui aveva già avuto un'avventura nelle serie giovanili italiane. Interrottasi poi dal brusco ritorno in Brasile da parte sua perché oggettivamente non si trovava moltissimo con il clima italiano. E' venuto qui perché doveva essere tesserato dalla Juve Stabia negli anni scorsi, poi questo è saltato e quindi girovagava tra eccellenze serie di piemontesi. Abbiamo trovato questa occasione e l'abbiamo integrato questa sera nel gruppo ovviamente, viene da Guarapin e quindi dalle favelas brasiliane. Si trova qui a Casalbordino in un paesino piccolino e in una realtà completamente diversa, quindi diamogli tutto il tempo di ambientarsi. Sono convinto che farà bene, sono convinto che mister Farina saprà inculcargli il suo credo e lo saprà utilizzare al meglio. Fermo restante che noi abbiamo già in attacco delle colonne d'Ercole come Mainella e Loris della Penna e poi abbiamo il nostro Luigi Marchioli che insomma non ci farà sicuramente rimpiangere nessuno. Pariteticamente a questo abbiamo anche da attingere dalla nostra Juniors dove Costantino e Malandra non sembrano degli Junior, quindi sono molto soddisfatto della rosa che abbiamo quest'anno. Ti aspetti una discreta presenza di pubblico, contrariamente all'altra volta nel quale c'era la raccolta fondi per i terremotati e non sei rimasto molto soddisfatto dell'esito incasso? Guarda, devo essere molto sincero. Sì, quella volta siamo stati molto molto delusi, però poi molto probabilmente l'incipit di quella settimana è tuonato forte per la settimana dopo perché poi abbiamo avuto il derby sentito con la Casolana in cui il popolo casalese è a corso numeroso e penso che a meno che non ci siano partite di cartello strane, questa sia la partita di cartello di questo turno di promozione quindi chi vuole bene ai colori giallorossi non può non essere qui a Casalbordino a tifare per i propri colori contro il vasto Marina e che Dio ce la mandi buona veramente. Grazie Antonio perché sei sempre presente e mi raccomando te lo dico già da adesso fai venire tua figlia e tuo figlio. Carlo Antonietti, per la prima volta ai nostri microfoni, dirigente ufficiale da questa stagione del Casalbordino si occupa nella fattispecie dell'impiantistica, siamo proprio sotto una delle panchine a realizzare questa intervista e ci potrebbero essere a breve delle novità che riguardano proprio questa parte di campo con le nuove panchine o no? Buonasera a tutti, sì, in effetti si sta lavorando a migliorare questo impianto sportivo che è una cosa che è un bene comune, quindi non soltanto per la nostra società, per la PD, per la Uniones ma un bene di tutti. Abbiamo ricevuto buoni segnali, buone promesse adesso siamo in attesa che queste promesse diventano realtà e quindi abbiamo la speranza che a breve arriveranno anche delle panchine nuove che magari saranno anche da buon auspicio per il proseguo del campionato quindi vediamo un po', adesso qualche lavoro è stato fatto attendiamo queste panchine che sono state promesse solennemente quindi siamo certi che nel giro di qualche settimana avremo dove poter accogliere i giocatori in maniera più decorosa e poi vediamo, abbiamo degli spogliatoi che purtroppo mancano dell'omologazione, ci siamo adattati ancora sugli spogliatoi vecchi che da tempo non ricevono manutenzione, ci siamo adattati noi a fare qualche lavoretto certo, avere un impianto più decoroso considerando anche il livello di gioco considerando le squadre che ospitiamo, sia noi come promozione sia la Juniors che fa la Juniors d'elite quindi vengono con pagini abruzzesi non indifferenti sarebbe sicuramente una cosa più bella, no? Quindi vediamo in futuro cosa accade E per chiudere un tuo giudizio sull'andamento della squadra in questo primo scorcio stagionale? Ma il giudizio, la squadra ha fatto un carico di lavoro non indifferente sicuramente nell'ultima di campionato d'Ortona abbiamo avvertito una grande flessione infatti arrivavano sempre prima di noi, andavano prima di noi abbiamo concesso 70 minuti agli avversari la qualità c'è, adesso aspettiamo che i ragazzi siano meglio con la corsa e quindi sperando di poter fare meglio io vedo un ambiente carico, vedo che i ragazzi stanno meglio quindi ci sono buone, come posso dire? Buone? Non mi viene il termine esatto possibilità ma buone impressioni più che altro da parte mia per la partita di domenica perché bisogna rialzarsi subito da quella brutta e amara sconfitta che abbiamo subito d'Ortona Paola De Camillis oltre che vicepresidente del Casal Bordino da alcuni anni ricopre anche un ruolo importante nello staff tecnico è il preparatore atletico di questa squadra come si è svolta la preparazione per questa nuova stagione? La preparazione è andata abbastanza bene è un po' saltellante per ovvi problemi di lavoro non riuscivamo un po' a coincidere con gli orari però alcuni ragazzi che avevano più problemi li ho portati da me in palestra a fare dei lavori un po' più particolareggiati e fare una riabilitazione più adeguata per la loro tipologia di problematiche che avevano sia sulle gambe che anche a livello di anche, glutei, adduttori Anche se è la prima volta che probabilmente lo vedi all'opera che giudizio puoi trarre di questo nuovo arrivato questo ragazzo brasiliano? Parlo ovviamente del livello di preparazione che si può vedere in questi 5 minuti di giudizio un po' approssimativo ci rendiamo conto? Beh, da come si vede è molto scattante agile, molto preparato muscolarmente parlando giustamente, tecnicamente non ne sono molto capace di poter esprimere un giudizio però lo vedo molto molto preparato speriamo bene anzi, vi invito tutti domenica a venire a vedere la partita spero che siate numerosi abbiamo bisogno dei tifosi, dei casalesi di tutti voi a tifare il casalbordino perché anche il tifoso dà una mano e contribuisce ad una vittoria spero grazie a tutti